Ciao Palla, vuoi fare un puzzle con me? Sì! Che può essere? Beh, a me sembra... Semi il pompiere! Tra poco! Su Cartunito! Il sabato e la domenica su Cartunito c'è... Maradonito! Sì! Ti aspetto! Ehi, guarda! Devi unire i punti! Oh, bene! Grandioso! Uno, due, tre... È il trenino Thomas! E star... It's nerf or nothing! Presto! Ricomincia Cartunito! I consigli di Heidi! Quando trovate un animale in difficoltà, cercate di aiutarlo a guarire. Dategli da mangiare, tenetelo al caldo e non rattristatevi. Fatevi aiutare da chi ha più esperienza di voi. Sicuramente saprà come comportarsi. A presto! Con i consigli di Heidi! Cartunito! 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 Cartunito torna tra pochissimo! Non andartene! La magia e la moda delle Winx sono... Ehi, ciao! Puoi aiutarmi a indovinare di chi si tratta? Certo! È un bambino! Indossa una grande bandietta gialla! Chi sarà mai? Ma certo! È Caillou! E arriva tra poco! Su Cartunito! C'era una volta un meraviglioso mondo di applicazioni dove i Cartunitos piantarono 5 fagioli magici programmati per l'avventura e capaci di fare cose incredibili! A mano ferma, utilizzando forme, suoni e colori i Cartunitos si arrampicarono sul fagiolo magico dove scoprirono una nuova terra! Prova le tue abilità con la nuova app I Cartunitos e la pianta di fagioli Disponibile ora su smartphone e tablet Cartunito torna tra pochissimo! Non andartene! Prova Fish! Tu lo metti nella... Come in tv! Nerf and Strike Elite Più azione e divertimento per te e i tuoi amici con Strife Unico blaster automatico Strongarm con canna rotante e Firestrike con puntatore luminoso Massima precisione con Strife, Firestrike e Strongarm It's Nerf or nothing! Presto! Ricomincia Cartunito! Dove possono essere qui in ausea? Bevi i piccoli pufi? Ma sono qui sul Cartunito! E li puoi puffare tutti i giorni e fare un pieno di allegria! Divertiti con i tuoi piccoli amici blu! Loro vogliono stare sempre con te! Ragazzi, chi siete tutti? Non ne posso più di questi pufi! I pufi! I nuovi episodi! Dal lunedì al venerdì alle 20 e 25 Tra poco! Ciò è un cartunito! Forza avanti, unisciti! C'è Tri-Fu Tom! Ha dei poteri molto speciali! Un esempio di magia! Che la noia porta via! Il suo mondo è magico! Tri-Fu Go! E ti aspetta con la sua tribù di amici veramente fantastici! Tri-Fu Tom! Dal lunedì al venerdì il mattino alle 10 e il pomeriggio alle 4 e mezza Ottimo! Su Cartunito! Cartunito torna tra pochissimo! Non andartene! La magia e la moda delle Winx sono in edicola con le mini Winx Grazie a tutti!